la nostra rassegna stampa e continuiamo a sfogliare i giornali anche di domenica direttore anche di domenica perché domenica è uscita sulla non so se la regia manda in onda un articolo un po' cervellotico sul fatto quotidiano miracoli vaticani sprechi benefit e buchi di bilancio in un'insalatona mista un certo Carlo Tecce fa volutamente un'amabile confusione tra i soldi del Vaticano e i soldi della CEI mette insieme lo IOR e la povera TV 2000 sono cose completamente diverse e siccome questo amabilissimo articolo è stato ieri ripreso da un'agenzia gossipara che va per la maggiore che noi ci pregiamo neppure di non citare neppure pensiamo che sia giusto fare qualche precisazione innanzitutto la cifra che spara è una cifra esagerata circa i costi della nostra televisione poi bisogna dire che di solito quando si parla dei costi di TV 2000 si comprende anche questo per la precisione va detto l'agenzia radiofonica cioè i dieci colleghi e tutta la struttura che abbiamo qui in questo contenitore edilizio che serve le 200 radio diocesane noi non abbiamo una stazione radio nazionale della CEI o di collegata TV 2000 noi facciamo un'agenzia radiofonica a servizio delle radio diocesane anche di quelle diocesi i cui vescovi hanno fatto le domande avrebbero fatto le domande secondo l'articolista sono vescovi e non cardinali caro Tecce non solo oltre ai costi dell'agenzia radiofonica di solito si mettono insieme anche i costi che noi affrontiamo come agenzia televisiva perché non so se i nostri telespettatori sanno noi tutti i giorni facciamo un telegiornale che i nostri telespettatori non vedono ma che mandiamo sul satellite ed è un telegiornale nazionale originale a servizio delle tv locali e poi mandiamo nel satellite come banca programmi dei programmi a cui le televisioni locali su cui possono fare affidamento per il loro palinsesto dunque è un costo complessivo ma dentro al quale c'è anche TV 2000 non coincide mai con TV 2000 ma la cosa che più ci ha lasciato così è il fatto che si dice si spara una cifra e si dice per una televisione che fa lo 0,50% di share quotidiano ora intanto oggi siamo allo 0,72 non è 0,50% e nel gennaio dello scorso anno quando è cominciata la misurazione eravamo a 0,26% quindi in 13-14 mesi siamo passati da 0,26% a 0,72% noi ci prefigiamo di arrivare per dicembre all'incirca all'1% va detto a chi non se ne intende o fa finta di non intendersene come tecce che questo è un piccolo caso miracoloso che nel mondo delle digitali al quale noi apparteniamo non si è ripetuto per nessun'altra emittente provi a fare un confronto tra i nostri costi e quelli per esempio di Sky o i nostri risultati e quelli di Sky quindi calma tecce calma tieni conto che per il rosario oggi come oggi noi serviamo noi raggiungiamo e abbiamo associati a noi circa un milione di italiani che recitano il rosario con noi non so se la cifra ti colpisce a me un po' colpisce per la messa raggiungiamo oggi come oggi il 3% di share per le trasmissioni in cui c'è il Papa per soggetto le celebrazioni o l'udienza del mercoledì tocchiamo il 4% di share cioè un numero una cifra un tetto davvero per noi sperato ma è un caso un caso televisivo impositivo quindi fare dello scandalismo a basso prezzo così come l'hai fatto tu e come lo fa l'innominata agenzia Gossipara ci pare una cosa poco dignitosa per voi per la vostra dignità di cronisti e se permettete anche poco rispettosa del lavoro che qui viene fatto da dei vostri colleghi che nonostante tutto vi stimano